Si andrà ai calci di rigore per decidere chi andrà in semifinale fra sezione C e sezione G 0 a 0 Niente parlamentari Parte Toscano la rete di Andrea Toscano C'è il vantaggio dunque della sezione C 1 a 0 Andrà adesso Tamai per i ragazzi Maglia Rossa Tamai contro Mennilla Parte Tamai Mennilla intuition non basta Il gol anche della G 1 a 1 Andrà la Balme con il destro La Balme contro Maida Parte la Balme Impeccabile Impeccabile il rigore di la Balme 2 a 1 a C Andrà Manfellotta adesso Manfellotto contro Mennilla Parte Manfellotto Altro rigore impeccabile La rete della G Andrà Platone col Mancino Platone contro Maida Va Platone Maida La parata di Eugenio Maida Errore della C Andrà adesso Armando Avoglio Il capitano Per portare in vantaggio i suoi Avoglio contro Mennilla Avoglio contro Mennilla Parte Avoglio Mennilla La parata di Mennilla La parata di Mennilla Errore anche della G Perfetta parità Andrà Marco Carrieri Con il destro Contro Eugenio Maida Carrieri Il gollo di Marco Carrieri Impeccabile Adesso va Christian Deriso Deriso contro Mennilla Ma Deriso Impeccabile la conclusione Di Deriso Va in Grisagna adesso Tre gol E un errore per parte Grisani La rete Adesso obbligato a segnare Semignano Per andare ad oltranza Se sbaglia la C in semifinale Sì Semignano Il gol Si va ad oltranza dunque Altri cinque rigori No no giusto Ci deve essere un gol E un errore dell'altro Per passare Va decimo Il destro centrale L'errore di Alberto decimo E adesso la palla Della semifinale Sirignano Maida Proprio il portierone Ha il pallone della semifinale Sul destro Si segna la G in semifinale Pallone pesantissimo Va Maida Il gol del portiere Della sezione G I pompieri I pompieri Vanno in semifinale La festa Dei ragazzi Maglia rossa Che forse hanno Sono riusciti A 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 Grazie anche a una Maggiore tecnica Individuale Il resto conta poco Salta la vita Gli altri Il resto conta poco Il pompiere Paura non ne ha Il pompiere Paura non ne ha E' genio qua Sei tu il migliore in campo Di questo quarto di finale Partita impeccabile Zero a zero A 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 E' anche segnato Che potevi chiedere di meglio No Non è Ma io Punzo manca Si Non c'era l'assenza Senti adesso Andate in semifinale Contro 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 Sai che non lo so La sorpresa La sorpresa Ah l'ha setto in H Perché la B ha perso al tavolino Quindi No Una bella partita Quindi Non sofferto alla fine Perché Cristiano si è fatto male Le parate Scrampi con un quarto d'ore Ricordiamo No Secondo te Non giocato le settimane E' fatto la settimana Di antibiotico Hai ragione Ma io con quattro si vuole Ma io con quattro si vuole Ma Maurizio ha fatto due tiro Come alla fine Bene Il vostro obiettivo adesso è E' vincere E' vincere Ma hai detto Ma hai storia Devi ballare Devi ballare Ma Maurizio Vai Vai Amore 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 Manca Tatto 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 Magare no Tatto Perché hai tarandello ogni volta Va bene Bocca l'uva alla G Ciao ragazzi